Amberlock è l'ultima invenzione degli ingegneri della fabbrica di finestre Amberline a Co-Object. Amberlock. Questo piccolo accorgimento porta ad una soluzione innovativa che aumenta notevolmente la resistenza della finestra e i tentativi di effrazione, senza interferire in modo significativo con il sistema finestra. La sua resistenza è stata testata con il carico di quasi una tonnellata, superando i requisiti per la classe RC3 e approssimandosi a quelli della RC4. La produzione di Amberlock si avvale della tecnologia più recente, cosa che porta a creare un elemento di straordinario potere. Un elemento che incide in maniera poco rilevante sul costo di produzione di una singola finestra. Un elemento che, a differenza di altri dispositivi di sicurezza, non pregiudica il confort di utilizzo e non necessita di ulteriori operazioni di manutenzione. La soluzione adottata permette inoltre il blocco completo con la manilia spostata semplicemente in posizione di chiusura. Amberlock, una chiusura innovativa con una straordinaria resistenza alle frazione.